Foschini, di qualcosa! Vuoi intervenire su questa querella? Comunque con più menti. Ascolta, invece di fare il pirla come al solito, riprendi quei due pirla che ci sono lì di fronte a me. È vero, cosa state facendo? Non con lui, non con lui, non con lui. Una cosa molto seria. Vagli vicino con una telecamera e fai vedere a casa cosa stanno facendo. Una cosa molto seria. Sta scrivendo una specie di testamento. Autografo. Che io poi faccio legalizzare da un notaio. Ma questo sicuramente. Io ho sottoscritto Massimo Brambati, dopo aver visionato, dopo aver visionato, no vabbè il foglio è qua, non è che posso adesso, dobbiamo metterla giù bene perché il notaio non è che... Dopo aver visionato il balletto di Elio Corno, dopo la vittoria nel girone eliminatorio, e sottolineo girone eliminatorio, autorizzo con firma in calce, il dottor Gianni Solaroli, ad abbattermi sul posto, nel caso in cui mi venisse alla stessa età del signor Corno... 65 anni, dice lui... La stessa idea, ho lo stesso comportamento in stato confusionale... Ti querelo, Solaroli ti querelo, 65 anni sono tuoi. Ma quello c'entro io. No, detto francamente, da 65 anni sono ridotto così. Ti vieni struttura. Ti autorizza da battagli. Caro Tiziano, Tiziano, i due struttura. Prendi un cannone e abbassi solo quei due lì. Scusa, io se sono... Non, ovviamente, da 66 anni sono due, 30 anni sono due, 30 anni sono due. Ti vorrei che, io, non c'entroi, sempre da conoscenza, Ti chiedi da conoscenza, io sono due. Ti dimenticasse adesso! Lo stesso! Musica!